Salve a tutti, 5 e mezza del mattino, Mr. Omega, stiamo andando a Turtur Dove siamo arrivati? Il primo treno l'abbiamo preso, il secondo treno per arrivare a Tortuna Cioè poi vi lamentate del sud, siamo usciti dalla stazione, non c'è un taxi, non c'è un autobus, non c'è niente che vi porta alla fiera Forci voi, è questa, quella di Scarface che voglio, questa Facciamo vedere un po' di cose a chi non ha avuto la possibilità di venire Dande, voglio fare soltanto una ripresa Che disturbo? Assolutamente Quindi quando mi ha detto che magari poter avere quel livello Poi lo sai, quando fai qualcosa di nuovo, è il C e lo hai Quindi questo gira 28.800 alternanze Il movimentore di riserva di carica Bello il quadrato Vediamo le Jouperet, un top grade Quindi nella sua versione più rifinita 300 metri, 40 di diametro Fondello coniato Questo ne dica Quindi il rilieo Bello, eh? Cassa solo 5 mm Vetro zaffero, quasi 3 mm Ovviamente 300 metri Lievemente lumbaro Quadrante, bello Quadrante da grader, effetto asfalto Bello Bello Ho visto alcune colorazioni, non so se ci sono altre disponibili A me piace così E così è più sportivo Sì Stile sportivo Naked bike È qualcosa di nuovo, di innovativo È sempre gli stessi Siamo tolto un po' da qualche cosa Siamo scelto un po' da qualche cosa Qualcuno che si prova È più Qualcuno che non usa sempre gli stessi movimenti È sempre le stesse Eh ma secondo me Questo è bellissimo Secondo me Questo è bello Ah bello Vabbè vai Spallette di protezioni Entrambi lati Che cosa Mi deve dire anche un minuto Mazza, non è la caravella Un palino Se l'orologio fa 500 metri Noi abbiamo creato un percorso Che fa mille metri Quindi blindiamo tutto No, l'idea qual è? Che non ne possiamo più delle scatole Perché rompono le scatole È bello che l'abbiamo fatto No, è un oggetto bello da avere risposto Esatto Questo è un oggetto bello da vedere Però la logica sarebbe Visto la rapsula del tempo vera Mille metri Di mettere dentro i propri rivolte Sottegarsi a un giandino E poi lasciare i posteri Quando ho virgo il testamento eccetera Sì E dentro non si trova Una cuffia di spugna Un ebro, un materiale Ma una bella Cochette da piaggio Dove arriverà l'orologio Con la carta di garanzia L'orologio e gli strumenti E però si possono togliere E poi si possono mettere altri orologi Insieme al nostro Chiudere E portarseli in viaggio Quindi tutto il package Viene spacchettato Ultima cosa Non abbiamo detto il prezzo Il prezzo Allora qui facciamo un prezzo Fiera per gli amici Di 1.380 euro E poi diventeranno 1.650 1.700 Dipende un po' Da quello che metteremo Nella pagina Diciamo Fuori fiera definitiva In fiera di amici Un orologio O in versione nera O in versione blu 50 pezzi neri 50 pezzi blu Non ho più Non ho di meno Non saranno replicati Il secondo progetto Non sarà neanche un GMT Quindi Chi è interessato all'orologio Si affretti Perché ne abbiamo già dati via Diversi E vogliamo fare una cosa Anti-reseleraggio Ne vendiamo uno solo a persona E diritto di prelazione Sul secondo modello Lo faremo A chi è già possessivo Questo è quello che facciamo noi Alta qualità Ciao a tutti Per gli amici del canale MDM Vintage Orologi Io sono Andrea E presento La nostra prima collezione Del marchio CMC Che vuol dire Creazione Meccanica e Pornometrica Siamo di Firenze E lo vedete bene Nel logo Abbiamo messo Un bel giglio Che ricorda Ovviamente La nostra toscanità E non solo Il nostro primo orologio Si chiama anche Sub-Arno Che è il sub dell'Arno Quindi Siamo cascati Proprio Nella Toscana Piena Sai cosa mi piace Mi piace La doppia corona La doppia corona Esatto Cosa ci partiva la rigida La doppia corona Che bilancia l'orologio Infatti Perché vi ho parlato Del nostro marchio Perché nascono insieme CMC È un marchio a specchio Bilanciato Come è bilanciato Il nostro orologio E tutti i nostri orologi Avranno questa partida La realtà Di essere molto simmetrici Ha la corona A ore 9 Della valvola Di sfogo dell'elio Mentre quella A ore 3 È una classica Corona Per lavorare Il meccanismo Dell'orologio Che è Un Landeron L24 GMT Qui c'è il signor De Paola Quindi C'è il signor De Paola Che poi andrete a trovare Se non l'avete già fatto Esattamente All'opposto Dove siamo Al primo banco Non siamo gli ultimi Sono i primi della classe Ma siamo andati dai migliori Da subito E no A parte gli scherzi Il movimento è 28.800 alternanze Ora 40 ore di riserva di carica E 28 rubina Di più Veramente Non sapremmo cosa fare Poi cosa ci particolareggia È 500 metri di resistenza All'acqua Betro zaffero Un trattamento antiriflesso interno Ghiera zaffero Con grafica A colore L'orologio è sia Nero Che quello che in esposizione Lo facciamo in due colori Che il quadrante blu Doppio livello Lavorato La particularità qual è? Che questo è un orologio pensato Per chi Andrà a fare Diving all'estero Perché ha tutti I riferimenti Per essere un orologio tecnico E Però Ha anche una funzione GMT nascosta Perché abbiamo creato Un lancettoni Bucato Che è un vedo non vedo Che non dà noia Quando uno è sottato Quindi quando uno si deve vedere Non si vede Però quando uno è sulla spiaggia Magari Deato Può andare a Cubo Alle Maldive E deve chiamare casa Controlla magari Il secondo fuso orario E si fa la sua chiamata Questa è un po' L'idea di fondo Tutto realizzato Allora realizzato Ingegnerizzato Studiato A Firenze E ovviamente Costruito in Svizzera Perché Swiss Made 100% svizzera Dal calibro Non c'è nulla di fornitura standard A parte il calibro È tutto disegnato da noi Il voluto è che apugano Ok Grazie mille Grazie Bella questa Bella Cassa 42 Prova su Mi piacciono questi qua Mamma mia Adesso è un zanzato Anche la parte classica Avete il packaging? Quanti metri di profondità? Allora Parliamo del nostro Modello Calypso È resistente 300 metri Di profondità Monta un calibro Giapponese NH35 NH38 Ok Che senza disco data Corona vita E vetro di taffero Prezzo? Prezzo Listino 320 euro Prezzo Fiera Quindi super scontata 249 euro Solo per chi Viene in fiera Trovarci Ok Bello questo di Joker Bello questo Anche la valigetta Mamma mia Io ho la pistola Allemanno 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 Li ripeti li mangiare Loro non nascono Come orologiai Ma come Per una zinga Lui ho fatto un video Questi sono i Questa chilometri Delle 500 Avete mai visto Questa è Questa è Questa chilometra Originale Dipende Non vedo Nessun C'è Questo giro Non dipende Da te Il video Sui vostri orologi Vi ho chiesto informazioni Vi ho girato una mail Siete stati Così gentili Però io era all'inizio Che facevo i video E vi volevo fare i complimenti Da vicino Per la vostra gentilezza Per la vostra cordialità Questo è il protachilometro Bellissimo Cesare e Luca Andarono Alla fabbrica A fare il video Allora dai dai Fanno mangiare Facciamo vedere Tutto Bello Bellissimo Abbiamo Ti ho fatto vedere La novità La colorazione No Bianco Un fatto Colorazione Quadrante bianco Con le lancette A contrasto nere Quindi molto ben leggibile Versione Ceramico opaca Nera O ceramico opaca Rossa E questo Eravamo indecisi Se fare uno dei due Alla fine Sono piaciuti Molti entrambi Quindi li facciamo Tutte due Perché questo rossa È molto particolare Prezzo Prezzo Offerta fiera Non per questi Perché questo ovviamente È il prototipo Quello dobbiamo lanciare La posizione Però il nero Ha un prezzo di destino Di 1050 Fiera 790 Con un cinturino In pelle di capra In omaggio E poi guarda Allora io prendo Solo il cinturino Grazie Solo l'omaggio Questo cinturino L'anorologio Si sposa molto bene Anche con Un bel cinturino Io preferisco Il cinturino O in pelle O in gomma Sì 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 Ma perché Soltanto perché È un polso storto Non hai visto lì Non so andato Non so andato Scuolo È un polso storto È un polso storto È un polso storto Vedete Un under on Quadrati Tu vai Allora tu vai Tu vai In tutte le fiere Tu vai In tutte le fiere Maledetto Tranne quelle di Napoli Bravo Simpatico Ti fa anche San Bedoria Ti fa anche San Bedoria No no Non è neanche Giega là Questo è un mirandato Questo che è bello Il quadrato Sto mangiando La rucca Vai vai Amma Ti faccio il video Sto che monta Come movimento Stando Andano Faccio un video Così ricordo Questo signore Questo signore Questo signore Non può acquistare qui Senza il mio consenso Dimmi eh sped Grazie a tutti. Grazie a tutti.